sì tanta roba allora il suono di un pacchetto che si apre allora tanto se vi può tornare utile ah vè questa poi abbiamo trolley di salvataggio che le metto dritte poi abbiamo un salazzo che si vede poco a fuoco mi dispiace per la risoluzione ma poi abbiamo un carnivine poi abbiamo un kerubi un execute aspetta che mi metto fermo perché se no vi viene anche il mal di mano a voi un rock roof che avevo già trovato l'altra volta sia normale che reverse poi abbiamo un purloin un loop disc charizard lucente già lo adoro già lo adoro ma quanto è bello e l'ultima un laburno con firma adoro grazie a tutti grazie a tutti